Per creare un nuovo album dalla pagina amministrativa dopo aver fatto il login andiamo in galleria ecco qui il menu del plugin abbiamo la voce album facciamo clic a questo punto da questa posizione possiamo aggiungere un nuovo album a me interessa in questo momento creare un album per l'attività di mountain bike quindi posso nominarlo, etichettarlo mountain bike e quindi lo aggiungo e in questo caso è il secondo album e quindi gli viene assegnato un ID2 a questo album poi potrò assegnare un determinato numero di gallerie che vedremo poi in seguito come creare quindi ho creato un album di nome mountain bike se voglio visualizzare l'album su una determinata pagina evidentemente prima devo creare la pagina io ho già creato la pagina sotto archivio scuola e secondaria di primo grado una Frank mountain bike quindi accedo alla pagina entro in modifica e qui è sufficiente aggiungere questa direttiva album id uguale 2 perché l'album mountain bike ha questo ID e template uguale compact posso salvare quindi aggiornare la pagina naturalmente adesso andiamo a controllare ma non vedremo nessuna galleria poiché nell'album mountain bike io non ho ancora inserito nessuna galleria vedremo come fare più avanti grazie grazie grazie